Asterisco asterisco nuovo titolo asterisco asterisco la madre di Greta nel Grande Fratello. Accuse, polemiche illiciti romantici. Marcella Bonifacio è tornata sotto i riflettori nel Grande Fratello con un nuovo episodio scandaloso, in cui ha attaccato Mirko Brunetti nonostante le suppliche della figlia Greta per fermarsi. Nonostante le richieste di Greta di rimanere concentrata sul percorso intrapreso e di evitare polemiche, le parole di Marcella sono cadute nel vuoto. L'episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social media, soprattutto dopo le accuse mosse dalla madre di Greta contro la figlia e Sergio Dottavi, sospettati di avere una relazione clandestina all'interno della casa. Il confronto tra Marcella e la nuova coppia è diventato il fulcro dell'episodio finale del Grande Fratello, trasmesso lunedì 11 marzo. Il tono aspro della discussione ha fatto sì che Greta si sentisse addirittura in imbarazzo per quanto detto dalla madre. Le accuse della madre di Greta non sono terminate qui. Marcella ha attaccato anche Beatrice Luzzi, accusandola di comportarsi in modo poco chiaro nei confronti della figlia. Parlando di Greta, Marcella ha dichiarato di non riconoscerla più e di essere preoccupata per il suo stato mentale, arrivando persino a minacciarla di portarla da uno psichiatra una volta uscita dal Grande Fratello.